Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Allora, cari signori, torniamo a parlare di libri. Come sempre, come capita da qualche giorno, mi rifaccio ad un vecchio libro della Fratelli Melita Editore. Eccolo qua, Berlino, ultimo atto. L'opera è a cura di Claude Bertin, un francese. Allora, in questo libro ci si parla più che della battaglia di Berlino vera e propria, degli ultimi convulsi, terribili, feroci mesi del Terzo Reich. Ci si parla dell'ingenuo e coraggiosissimo complotto della Rosa Bianca contro Hitler, con i suoi manifestini contro Hitler. Ragazzi e un professore che furono barbaramente decapitati per ordine del Tribunale del Popolo di Roland Freisler. Io dico solo questo, se voi pensate che Norimberga fosse una farsa, guardatevi un attimo i processi di Freisler. Spero di essere stato chiaro. Comunque sia, questo libro, dicevo, si inizia con il complotto della Rosa Bianca, con la tragica storia dei fratelli Scholl che cercano disperatamente di opporsi al nazismo, perdendo tragicamente la vita, giustiziati brutalmente per ordine del Tribunale del Popolo, di quella iena del giudice Freisler. La storia dell'operazione Cittadella, il rullo compressore russo che avanza inarrestabile verso i confini del Reich con l'operazione Bagration, l'intuito del Führer che si mette a studiare l'operazione nell'Erdenne, la creazione del cosiddetto Vallo dell'Est, la maldestra insurrezione di Varsavia. Sì, maldestra, coraggiosa, ma maldestra, perché scoppiò troppo presto. Purtroppo le prove ci sono. Allora, nota bene. Non è che a Hitler facesse schifo l'elimitazione della cosiddetta elite polacca, come aveva già dato prova a Katin, ma Stalin, da bravo georgiano qual era, riteneva sacra la parola data. Stalin aveva promesso a Churchill e a Roosevelt che avrebbe aiutato i polacchi che combattevano a Varsavia contro i tedeschi. Ma c'era un problema. La logistica dell'armata rossa era al collasso ed era praticamente impossibile permettere ai gruppi d'armate presenti davanti a Varsavia di agire perché erano senza munizioni, senza carburante, senza armamento. E la logistica sovietica, piuttosto approssimativa, sappiamo bene, nonostante le locomotive e i camion americani, stava facendo fatica a rifornire le truppe che per questo rimasero ferme davanti a Varsavia. Le truppe tedesche rimasero ferme davanti a Varsavia per quel motivo, perché non ce la facevano più. Ci sono le prove, cioè numerosi osservatori occidentali, da Glens a Vert a Overy, spiegano come la catena logistica dell'armata rossa a Varsavia fosse letteralmente al collasso e, incredibile dicto, non era neanche possibile muoversi perché avevano finito di che muoversi? La possibilità di muoversi non ce l'avevano più. I polacchi dell'armia Krajowa fecero l'errore di anticipare troppo l'azione ma, come dire, si riuscirono a coprire di gloria quando l'armata rossa poteva agire. Ahimè, non riuscirono a combinare niente di buono perché, diciamoci la verità, la lunghezza della catena logistica della Wehrmacht che gli impediva movimenti rapidi contro un bersaglio difficile come la città di Varsavia è un dato di fatto. Che a Stalin non stessero simpatici i polacchi quello è un altro discorso ed è pure vero. Ma è anche vero che Stalin aveva promesso a Churchill di intervenire in favore della rivolta dell'armia Krajowa e sappiamo bene che Stalin era uno che la parola data la manteneva e la manteneva a tutti i costi perché Stalin era un georgiano e per i georgiani, vecchio stile, la parola data ha un valore assoluto e inscalfibile. cioè se tu facevi un patto con Stalin tu stai pur sicuro che quello lo rispettava fino all'ultimo punto e virgola dell'ultimo paragrafo senza sgarrarne uno perché per lui, per Stalin, valeva l'antico detto latino pacta sunt servanda i patti sono da rispettare e era una questione d'onore per lui. Il motivo del ritardo, dell'aiuto dell'arrivo della Ramata Rossa a Varsavia si spiega sì con il calcolo politico fatto da Stalin ma si scontra anche con tre altri fattori uno l'eccessivo allungamento della catena logistica ricordiamoci che l'operazione Bagration la più titanica avanzata di tutti i tempi costò molto in termini di uomini, materiali, carburanti e rifornimenti vari all'Armata Rossa che quindi si trovò in grosse difficoltà arrivata davanti a Varsavia è inutile avere i carri armati se i carri armati non hanno più carburante e proiettili è inutile avere più uomini se i tuoi uomini sono stanchi da mesi passati a correre nella steppa russa inseguendo i tedeschi e che ora fanno fatica a stare in piedi e hanno un valore combattivo estremamente limitato insomma la rivolta di Varsavia poteva finire in un modo diverso se solo i polacchi come sempre non avessero come dire calcato troppo la mano non avessero voluto accelerare troppo le operazioni potremmo scrivere un'altra storia se Stalin avesse dato retta a Churchill o se i polacchi dell'armia Krajowa avessero aspettato un po' prima di agire non possiamo saperlo perché sapete bene quello che accadde quindi poco da dire gente la 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 Wehrmacht ebbe buon gioco contro i pochi rinforzi russo-polacchi che riuscirono che riuscirono a entrare in in Varsavia e ahimè l'inutilità dei bombardamenti da parte degli alleati in supporto agli insorti e l'impossibilità di rifornirli con adeguati carichi di armi e munizioni tutto qua quindi se vi capita se vi capita ripeto se vi capita il libro si intitola Berlino ultimo atto parla della fine della Germania parla della conquista della città di Berlino un libro onesto che ripeto essendo molto datato non conosce certe cose non si inventa certe cose perché si tratta di un libro molto 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 datato molto vecchio però ha tuttora la sua validità ripeto come opera di memorialistica e di diaristica per i fatti bellici specifici insomma sappiamo bene che dobbiamo rivolgerci da altre parti insomma testi più specialistici autori più accreditati e dentro l'argomento però ripeto come punto di partenza per conoscere la storia di Berlino assediata eccolo qua Berlino ultimo atto con l'analyse sulla seconda guerra mondiale l'autore dei scusate che non lo trovo l'autore dei testi è l'autore francese Claude Bertin ripeto leggetevelo vi potrà interessare secondo me vi piacerà molto perché è scritto veramente molto bene contiene numerose informazioni molte ripeto sono state superate dei fatti molti misteri contenuti in questo libro sono stati superati dei fatti dopo la decifrazione di Ultar e dopo il ritorno del telegrafo senza fili e che vi posso dire un libro questo qui sull'ultimo atto di Berlino Berlino ultimo atto ripeto opera del giornalista francese Claude Bertin di leggerlo ripeto molti sono perplessi su queste opere allora è vero che non sono scritte da autori de sinistra bellissimo ma le ho lette non mi sembrano sicuramente molto tenere con i nazisti e con i loro sgherri tutto qua quindi il mio consiglio è sempre il solito se lo trovate procuratevelo spendete due spicci leggetelo e fatemi sapere che ne pensate tutto qua quindi cari signori il sottoscritto vi saluta vi ringrazia e vi augura arrivederci al mio prossimo video buonasera grazie a tutti